Vicepresidente Lolli, 40esima mostra del fiore a Pescara, diceva prima un appuntamento importante proprio per la crescita di tutto il settore ma per la crescita anche dell'Abruzzo. Sì, beh, sono molto colpito, sono colpito perché obiettivamente, ovviamente conosco la storia che è una storia di crescita anche recente, ma non immaginavo la qualità e la forza che ha questo settore. Tra l'altro fatto di tante imprese, molte delle quali fatte da imprenditori giovani. Questo è un settore che sta crescendo, è uno dei settori in cui la qualità abruzzese si vede, ma poi parliamo di attività che sono molto legate al modello di idea di Abruzzo che abbiamo, che è un Abruzzo in cui stanno insieme il lavoro, le attività umane e la tutela, la valorizzazione dell'ambiente. C'è stata una presenza significativa della regione Abruzzo a questa iniziativa per dare un segnale di interesse sia per la promozione di questi bei prodotti e sia per evidenziare il sostegno, politica e sostegno, delle piccole e medie aziende che lavorano, e qui ce ne saranno tantissime, nel nostro Abruzzo, in questo settore. Sono certo che questa è un'iniziativa che significherà un grande impegno economico per il prossimo futuro e sono certo pure che da oggi partirà una campagna di comunicazione e di promozione, sostenuta anche dalla regione Abruzzo, che dia il giusto valore a questa meritevole iniziativa.